Allora stavo dicendo Riccardo hai preparato un classico, un tuo arrangiamento, te lo proponiamo gli amici di Salsomaggiore ed è per voi amici il volo del Calabroni, Riccardo Ambruggini 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 Riccardo Bruggini Riccardo Bruggini Riccardo Bruggini Riccardo Bruggini Riccardo Bruzzini, il volo del calabrone! Grazie, bravo Rick, bravo Rick, bravo Rick!